Che fine ha fatto il progetto per la sede unica del Comune dell'Aquila per il quale il Governo ha stanziato 35 milioni di euro? Probabilmente nella strategia dell'amministrazione Biondi questo progetto potrebbe non partire mai preferendo alla sede unica una sede diffusa in centro storico. Su questo argomento sono intervenuti alcuni consiglieri comunali d'opposizione in seno al Comune dell'Aquila, tra cui la DEM Stefania Pezzopane presentando un'interrogazione al Consiglio Comunale e chiamando a rispondere il Vice Sindaco Roberto Sant'Angelo, il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biunde ed il Vice Sindaco del Comune Capologo di Regione Raffaele Daniele. Credo che uno dei segni distintivi di una città che si ricostruisce è l'efficacia e l'efficienza dei suoi servizi al pubblico e quindi per il Comune una sede unica comunale fermo restando la sede sacra di rappresentanza a Palazzo Margherita. E così in questa direzione ci si era mossi nel passato tanto da avere dal Governo 35 milioni di euro per realizzare l'obiettivo, il sogno della sede unica che dà efficienza e che mette nelle condizioni anche il personale di lavorare in ottime situazioni. L'amministrazione Biondi però pare abbia deciso di non realizzare la sede unica. Perché? Perché in occasione della Commissione di Garanzia dove si è approfondito il tema di Palazzo Margherita, il Vice Sindaco ha detto che non realizzeranno la sede unica ma che l'orientamento è la sede diffusa. Allora l'interrogazione. Che significa sede diffusa? Come verranno utilizzati 35 milioni di euro indirizzati alla sede unica? Se la sede diffusa è in centro, come verrà supportata da parcheggi per il pubblico, l'utenza ma anche per il personale? E poi verranno eliminati rapidamente i fitti passivi che sono una delle piaghe dell'amministrazione e che sarebbero stati eliminati con la sede unica? In realtà mi sembra di capire, ed è uno dei punti dell'interrogazione, che questi fondi sono stati un po' erosi, a pezzetti. Un pezzo andrebbe alla ricostruzione della torre civica di Palazzo Margherita, ma stando alle parole del Vice Sindaco, ma altre piccole porzioni potrebbero essere state destinate ad altro. E allora vogliamo sapere con contezza cosa si intende fare.